Vieni a giocare con noi la 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 Basta Benvenuti in questa nuovissima puntata di Spaccare il colore mi fa Puntata? No, puntata Puntata, tutto puntata Ah, non lo so, io ne ho sentito Intanto mi scuso per quella gente che dice che io parlo Quindi per intrattenere il pubblico io parlo Quindi nel video Scusa perdonata, scusa accettate No, scusa perdonate, no, giusto Non so, scusa perdonate Solo che oggi la differenza che Come le altre puntata sono Diente del banale perché contro il mio fratello Basta vincere sempre Oggi abbiamo l'aiuto Dalla casa Io voglio un 5 Primo concorrente con il mio fratello E Bacchiamogli il culo Gian Piero La destruzione Di 5 Cosa cosa è la destruzione Ho detto destruzione Vabbè, sì E Roberto Panizzini Anche chiamato Il cazzo rosso Oh no Oh sì Quindi facciamo il colore in 7 qual è il colore? Allora, se lo vedi, va bene, lo facciamo Blue 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 Aspettù, dove c'è, dice il cuore di due carini a un falco Oh Su c'è, ci sono il blu Ok Eh vai, si può dire Il blu Bello Ragazzi Che vinca il miglior Anzi, i migliori Io, io, io mi ammazzo Sì Ok ragazzi, sì E no 3, 2, 1 Proprio puoi chiedere la porta insieme? Assolutamente sì! Vai! 3-1-GO! Vengilo! Ecco, cominciamo con la stanza! Non vince stonare! Ce l'ho, ce l'ho, ce l'ho, ce l'ho! Ora ce l'ho sto posto! Scusami tutto perché se no... Dai Marco però, no? Forza! Mi raccomando Marco siamo in due, quindi ti mostri la casa forza! Tirato! Forte! Aleuti! Certo! Bello, 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 bello stesso range che mette! Fatti avanti! No, 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 no! Rega di me! Ecco! No, 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 no! No, 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 no! Inveceto... Mai! Certo! Necceo No, dai, cazzo! Mi c Άo! E questo ma è un ducaro! Nuo. Chi è dovuto avere sono dei sicari... giusto giusto bravo Marco la verità ti ha rifiutato oh Marco la verità che ti ha lasciato la colla 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 già però ci stiamo zitto magari per dire la verità fatti stai attento no 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 però beh quello che spamma pure va ecco va ti premuta vabbè si mara fuori oh si l'ha fatto davide metti la faccia mia su a 1 0 vabbè si è abituato a destra il 0 Il zero ragazzi Il zero No Marco ma zero uccisioni A posto Tre Dedicato Dio Di nuovo Vai E ci parte per la seconda partita No No Forte Giambi Sotto i trenta Wow Curo giusto giusto Non è bravo, solo giusto No 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 Ciao ciao Pops Cazzuai Bravi bravi Sì Cambio da massi Wow Ciao 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 Che culi merda Olè Minchia tu No Alzi Del suo Lago Lago Cosa cosa Deciambi 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 Ma come dite Ciao ciccio Ciao ciccio Ciao ciccio Ciccio dai È Marco Bravo Deciambi 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 Vabbè dai Ce la puoi fare ciccio vai Impegnati un po' La forza di vincere Ci sta provando eh No 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 Aleppo Il pò 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 È sputata 1 a 1 Com'era? Quella a destra sta sempre a 0 Scusa, potete far vedere i puntenici? Vediamo un attimo Guarda i puntenici, guarda i puntenici Cavolo, Link Guarda i dati Ah, ho capito i sanni Pochino Io invece guardo, io guardo i puntenici Io per vincere le uccisioni che ho avuto le note Io le percentuali non so Le percentuali Ah, non ti parli Guardate, possiamo far stare a questa volta? Ragazzi, per vincere su Smash non contano le kill ma la percentuale Si, si, si Veramente no Ah, guarda Comunque, comunque Vabbè, giochiamo per divertirci Alla fine, il gameplay Linkartone Si Proviamo Linkartone Linkartone Si cambia Ok, bravo, bisogna rischia esagerare Vai, rischia, rischia Rischia, rischia, rischia Un po' Aia Guarda un po' Sì Sì Tutto ok ragazzi? Tutto ok Strano Non sembra Santo Vai Roberto Vai Roberto Vai Roberto Ah, non lo dico Attenzione 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 vabbè almeno una kill l'hai fatta stavolta Roby ok no matto 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 minchia ciccio ci vediamo giù ma che cazzo come sono morto cazzo io non vedo più un cazzo sì sì c'è stato un momento in cui bo vabbè Roby vediamo vediamo ce la fai? dai 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 come siamo? quante vite siamo? senti dico senti dico Gianpiero 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 mi presti anche i tuoi? no no cazzo alzati allora alla fine sì il home per fare le sue disazioni ne abbiamo già due dovrò per forza arrivare a quattro sediamoci andiamo alla terza partita vince 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 giampiero si fa il figo allora io devi cambiare allora sì sì cazzo almeno 100 150 allora ragazzi terza partita ci siamo però che cazzo esce vabbè certo 10 tutti gli attacchi caricati 10 no tutto io lo so no cazzo no ciao 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 non dimentico intanto guarda chi senti ciao non dimentico cazzo cazzo no 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 fuori 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 no 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 ma certo se sono sotto nel coso minchia mi rendo lo stesso no 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 giusto 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 no no fine ma tutto è nuovo aspetta ah aspetta come si chiama quanto come si chiama uno vuole fare pubblicità perchè è da due contro uno poi vanno su perdo come si chiama fare schifo in tutte le maniere ma di sì vero cerca il tuo cabello si è prestato si è prestato si è prestato no la parità la parità la parità due contro uno la parità che parla pure no siamo due a due e due contro uno invece è parità così siamo due a due mi state correndo tutti siamo due a due siamo due a due siamo due a due a due a due a due aiuto e prevedere la minchia ha sempre un cazzo a dire lui fa sempre un cazzo però quando lo fanno gli altri no oh merda che è un bug un mega galattico stai tre 8 sto uscendo ragazzi prevedi certo 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 ciao Ciao giambiiiiii! Guai io! No bro, no! No, no, no! Eravamo due e due! Mannaggia e lo pioRI lo facciamo adesso! Ciccio dobbiamo perdere! Ciccio dobbiamo perdere! Vabbè dai vada mica non sarà altro! Hai capito di davano? Sì Non è per un cazzo non è niente! e' assurdo ma no ma non credo ma non cazzo tutti e due guarda se non avessi preso quel cazzo di attacco non toccarmi non battete cessi non battete cessi ciao ciccio ciccio? bravo e' pure ciccio ti vedo giù e' io sono su ciao vai ragazzi fate le stesse cose da inizio eccolo la vuole però non posso farci strumentare quando mi lavora via dai se ciccio vince il mio finisce qui lo dico prima ok 3 ok 3 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 4 4 4 3 4 3 4 4 4 4 5 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 6 6 6 6 7 7 8 8 9 9 10 10 10 10 10 10 10 12 12 10 13 13 12 14 15 16 15 14 15 sondaggi di instagram di ciccio che continua a vincere di marco non si sa perché è bello perché beh lo sai che cosa ci mette il cuore perché queste contenti che danno team ciccio e poi ragazzi da che parte si è bello quello che è fatto per rito solo io marco allora ho fatto così funziona youtube e poi c'è marconi e poi mi ricordo che youtube funziona anche a numeri e all'inquanto sono alle olive forse ragazzi sono andati perdenti quindi io non voglio non voglio obbligarmi a dire team ciccio e che capisco che il marco per la gente è giusta perché crede a gente che magari spera che potrà vincere però ragazzi non è una casualità che vinco se in singolo che in coppia vabbè non dico altro chiudi 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 ragazzi io stai la verità team marco si è pensato che mi ha fatto oddio ti è morso blasa? si sta puntando di merda che cazzo fai? blasa così si fa vabbè 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 Grazie a tutti